Siamo ora ai tragici fatti di Londra, all'uccisione di un militare inglese da parte di due presunti terroristi islamici a commentare l'accaduto del senatore del Carroccio Stefano Candiani. Sentiamo. Senatore Candiani, come commenta l'ennesima tragedia che è avvenuta a Londra in mezzo alle strade? Innanzitutto un fatto veramente sconcertante sia per le modalità che per riferatezza, ma anche per l'indifferenza che all'istante è circondata proprio la questione. Quello che lascia perplesso per di più è che questo avvenga in un paese che ormai per tradizione è abituato a contenere l'immigrazione anche perché l'Inghilterra ha avuto un passato coloniale e quindi in questo senso ha sempre generato una sorta di cittadinanza privilegiata per i propri concittadini all'estero. Nel caso specifico però dobbiamo porci una domanda. Se questo avviene in un paese così attento come l'Inghilterra, che cosa può accadere? In un paese che invece è culturalmente molto più impreparato e certamente molto più gruviera, molto più permeabile come l'Italia, dove c'è peraltro anche un buonismo che sta dando molta prova di quello che è la sua limitatezza di vedute. La preoccupazione è che il fanatismo attraverso un'immigrazione prenda piede. E di fronte a questo possiamo solamente essere estremamente fermi nella condanna, ma certamente anche fermi in una riflessione. Non ci può essere immigrazione corretta se non c'è rispetto della legalità, ma non ci può essere immigrazione accettabile se accompagnata dal fanatismo.